Oggi nell'articolo dedicato al contesto mozambicano parliamo di quelle che sono state le scelte dell'Italia rispetto alla crisi energetica che è scaturita col conflitto tra Russia ed Ucraina e che ha portato l'Italia ma anche gli altri Stati membri dell'Unione Europea a cercare delle fonti energetiche alternative e quali sono quindi i risvolti delle relazioni diplomatiche soprattutto con gli stati africani. Un saluto da Marco D'Amburra.